Buonasera a tutti e questa sera vedremo insieme come testare le nuovi rilasci di Joomla e potrei contribuire a testare soprattutto la parte di pull request che sono le proposte da parte della community di nuove funzionalità o correzioni di issue quindi di problemi segnalati da altri utenti. Qua possiamo vedere che su GitHub c'è il repositorio di Joomla quindi Joomla, Joomla, CMS qua è dove gli sviluppatori rilasciano il codice di Joomla stesso. In GitHub ci sono diversi branch in questo caso vediamo lo staging che è il branch principale della versione corrente di Joomla ma è presente anche un branch per esempio per la 4.0 che è la versione che rilascieremo prossimamente e c'è già anche un branch per la 4.1 che sarà la versione appena dopo e anche la 3.10 ovviamente. Se dobbiamo vedere sotto releases, ok, ci sono i rilasci di Joomla. Per esempio in questo momento è rilasciata come stabile la Joomla 3.9.24, è presente l'alpha 5 dei Joomla 3.10 e la beta 7 di Joomla 4.0. Se uno vuole provare queste versioni chiaramente può scaricare da qua comodamente in versione zip targz, insomma la versione che preferisce e può installarla sul proprio server. Però per testare Joomla quello che consiglio di fare è di non usare l'ultimo rilascio ma scaricare la versione che viene ogni notte pubblicata da Joomla stesso. Se cerchiamo su Google Joomla nightly, ok, troveremo un po' di risultati di cui solitamente il primo che dovrebbe apparirvi è le nightly build di Joomla stesso. Sul sito viene ogni notte rilasciata una versione di tutte le versioni di Joomla che in questo momento sono in sviluppo. Quindi c'è l'ultima versione della 3.9.25 che è ancora rilasciata, che quindi è il branch attualmente attivo, quella della 3.10 e quella della 4.0. In questo caso scariceremo la 4.0 che come potete vedere è in beta 8, che è la versione appena successiva a quella che abbiamo visto poco fa, come rilasciata, che era la beta 7. Scarichiamo quindi il pacchetto full, ok, basta cliccare e partirà il download. Adesso ce lo salviamo sul nostro bel computer. In pochi secondi il download viene portato a termine e possiamo sul nostro server caricare lo zip che abbiamo appena scaricato. Per esempio andrò sul mio bel pannello di hosting, ok, dove ho creato un sottodominio che si chiamerà j4.jugme.it dove installeremo questa versione per fare le prove. Faccio l'upload, ok, negli scaricati, l'ultimo scaricato appunto è la 4.0.beta8.dev. Sono circa 25 MB di file ed è tendenzialmente in linea con tutte le precedenti mie versioni di Joomla stesso. A volte a caricare tutto lo zip ci basta nel mio caso premere sul nome del file per decomprimere sul mio server i file del pacchetto che voi utilizzate. In questo caso appunto stiamo vedendo Ergonet che ci ha gentilmente offerto questo spazio per fare le prove o altri servizi di hosting. Tendenzialmente tutti hanno un servizio simile per poter caricare da interfaccia web i file zip. L'alternativa potete caricare, spacchettare il file zip in modo locale e usando filezilla caricare i file sul server. Ora andiamo sul nostro bel sito web, ricarichiamo la pagina e parte l'installazione di Joomla. Siccome è un sito di prova, chiaramente, perché consigliamo a tutti non usare Joomla 4 ancora per siti in produzione finché è in versione non stabile, ok, quindi quando è in alfa, in beta, ma anche il Relay Scan che consigliamo di non utilizzarla per siti in produzione, e quindi semplicemente io ricopio solitamente il nome della versione che sto utilizzando per i test. La lingua di installazione al momento è solo in inglese, ok, più avanti verranno rilasciate le versioni localizzate di installazione e dei Joomla anche stesso nella lingua italiana o quella che ci serve, ma passiamo un po' a vedere come funziona l'installazione. Quindi andiamo avanti, ok, ci viene chiesto il nostro vero nome, ok, il nostro username, ok, una password di nostra scelta, e almeno 12 caratteri, Joomla ha alzato le caratteristiche di sicurezza. Ok, viene detto che viene accettata, e una mail che io metterò la mia, ok, facilmente. Andiamo avanti, ok, non salvo, va bene, me lo ricordo, adesso sì, dai, lo aggiorniamo, va bene, e viene salvato il database, le connessioni possono essere MSQLite, MSQL in PDO, Postgres, rispetto alle nostre caratteristiche, al nostro server, in questo caso usiamo un MSQLite tranquillamente. Localhost, l'username e la password del database, adesso me li copio da qua che non me l'ho salvato, prima le informazioni, quindi questo qua è il database name, ok, questo è l'username, e questa è la password. Ma come sempre lui genera ottenimento una stringa di 5 caratteri come prefissure di tabelle, per sicurezza a noi va bene quella che ha messo di default, volendo così può cambiare. E passiamo ad installare Joomla vero e proprio. l'innovazione con il logo di Joomla che gira con i colori, ok, perfetto. A questo punto si può installare delle lingue aggiuntive di Joomla, ok, possiamo vedere quali sono presenti, ce ne sono diverse, ma potete vedere quali tutte sono ancora per la 3, non ce n'è nessuna per la 4. Questo perché ancora si aspetta di caricare sul repositorio delle lingue e le versioni aggiuntive delle lingue. Sappiamo che però sono disponibili, su siti di multilingua per testing, il persiano, persian, ok, che è, non è questo, ma è il persian, ok, perché è una lingua che, rispetto all'italiano, che va da sinistra a destra, è una delle poche che va da destra a sinistra, e il tedesco, per esempio, d, ok, e anche per esempio mi pare il francese, la memoria, esatto. Queste qua potremo installarle, quindi basta andare su next, dammi un attimo che la installa, eccole qua, e ci farà scegliere quella di default. Se prima installare, per esempio, l'italiano, italiano, ok, che al momento non sappiamo non esserci, ci dirà, in alto, ok, che non è capace di installarlo ancora. Quindi, ci tireremo l'inglese, nel nostro caso. Quindi, skip questa fase, l'inglese di default, tiriamo l'inglese, perché almeno io la parlo meglio rispetto al francese, il tedesco, al persiano, ok, e infine posso rimuovere la carta di installazione, perché ho finito di configurare la parte di installazione di Joomla. Ora possiamo vedere, sia il sito del lato front-end, sia il sito del lato back-end, quindi il lato amministratore. L'OM si presenta molto pulita, c'è in alto la barra del coltito del sito, la parte principale, il resto del menu di login. Un po' come era la versione precedente, cambia un po' la grafica, ma, meno male, è sempre il nostro amico Joomla. Il back-end, anche lui, c'ha ovviamente l'accesso, posso selezionare la lingua con cui accedere, però, di per sé, non è cambiato un granché. Ok, login. Questo è il back-end, che è cambiato molto rispetto alla versione 3. Ok, il menu non è più in alto, il principale è mai spostato a sinistra, ok, con un menu tendenzialmente un po' più comodo da utilizzare, possiamo andare a rimpicciorirlo se ci servisse lavorare sulla parte centrale con più spazio, ok, e in più sono state create queste dashboard, ok, che fanno un po' un riepilogo delle funzionalità dei content, dei menu, dei componenti, ok, e degli utenti, così ogni, o anche ogni componente volendo potrebbe avere la propria dashboard. qua ci chiede di mandargli le statistiche, noi le mandiamo così chi lavora su Joomla può farsi un'idea di quali sono i nostri server, che caratteristiche ha e come possono aiutarci a farlo funzionare meglio e quindi solitamente le condivido senza problemi, tanto sono tutte informazioni anonime. Bene, Joomla è funzionante in questo momento, chiaramente non è perfetto perché siamo ancora come abbiamo detto in una versione beta, però per provarlo rispetto a qualche a qualche anno, a un anno fa, due anni fa è cambiato molto, ora veramente è molto potente e funziona molto bene. Ci sono molti componenti aggiuntivi, per esempio ci sono state aggiunte le API, funzionalità di usabilità, sono cambiate un po' di cose, sono state aggiunte più che altro. quindi per prenderci in mano sicuramente può essere una buona idea iniziare a giocare con la beta. Però noi vogliamo fare qualcosa di più, vogliamo fare qualche test. Allora, possiamo andare a installarci il patch tester. Che cos'è il patch tester? Il patch tester è un componente di Joomla che serve per testare, come ho detto prima, le richieste di aggiornamento del core di Joomla con funzionalità aggiuntive o correzioni di problemi. Come funziona il ciclo di vita di Joomla con la parte di selezione di una issue relativa a PR? Torniamo qua nelle reposizioni di Joomla che abbiamo visto prima, andiamo a vedere i tab in alto, che è su Github. Sotto code c'è il codice vero e proprio di Joomla, uno può andare a navigare e vedere cosa sta avvenendo rilasciato dagli sviluppatori, ogni quanto viene aggiornato, chi ci ha lavorato recentemente, chi ha fatto l'ultima modifica e quante ore fa, sette giorni fa. Se andiamo a vedere per esempio nel branch della 4.0, un'ora fa, da Richard. Sotto a destra ho visto i relays e i rilasci, ma soprattutto ci sono le issue e le pull request. Le issue servono per segnalare un problema, per esempio quando l'utente ha detto che c'è un problema con i font su Joomla 4 e Bootstrap 5. Con new issue segnaliamo un problema che può essere un bug, un fix del template, la richiesta la richiesta di una funzionalità, un problema di sicurezza e una rfc, quindi una richiesta di nuovo sviluppo, che è un po' simile alla feature request come concetto. Anche qua si può riportare una vulnerabilità simile alla security. Una volta che sono state presentate le varie issue, qualcuno potrebbe sviluppare una pull request, si tratta di inserire del codice che va a risolvere una issue, non per forza serve la issue per farla alla pull request comunque. Per esempio vediamo quali sono per Joomla 4, 4.0. Qualcuno dice che per esempio c'è un problema sulle immagini nella ricerca e qualcuno ha fatto una pull request per sistemarlo, oppure c'è un problema con i titoli in H1 negli articoli. Vediamo un po' cosa dice questa qua che sembra essere abbastanza facile. Qua Andy SDH dice ok pensa che leading delle pagine degli articoli ok in menu title devono essere in H1 ok perché l'H1 è letto più comodamente dai crawler dei motori di ricerca Google Bing e compagnia bella ok al momento i titoli sono in H2 ok dopo la sua modifiche dovrebbero essere in H1 ok è una label nelle label si vede che è una pull request per la 4.0 proviamo un attimo come stiamo a provarla ok bisogna come abbiamo detto prima installare le patch tester il patch tester lo troviamo anche lui su github se cerchiamo Joomla patch tester vediamo che dopo due articoli tendenzialmente della JDoc che spiega un po' come funziona c'è su github ok il repository sempre di Joomla Joomla extension il patch tester ok ha giornato 6 novembre 2020 però è lui nelle releases vediamo che c'è una versione 4.0 ok e una versione 3.0 chiaramente conviene usare la versione della 3.0 per Joomla 3 e la versione 4 per Joomla 4 io mi prendo il link allo zip ok coppia indirizzo e ora andiamo a installarlo dentro Joomla qui torniamo la nostra bella dashboard ok in systems ok manage extensions quindi installiamo un'estensione no ho sbagliato scusate manage extensions le gestiamo possiamo installarla giustamente il problema della diretta install extension scusate eccola qui possiamo installarla cercando sul nostro computer trascinarla qua dentro per installarlo oppure installarla da url quello che faremo noi in questo momento ctrl v ok incollo l'url che ho colpato poco fa andiamo a installare il nostro bel patch tester eccolo qui installato a posto sotto componenti ci troveremo Joomla patch tester che fino a poco fa non c'era perfetto eccolo qui installato e funzionante funzionante circa se facciamo fetch data ci dirà che lui può ma facciamolo intanto caricare i dati ma senza un account c'ho il limite di richieste che possiamo fare da un ip ogni giorno il consiglio è sempre ok di utilizzare ok le opzioni ok e andarci a autenticare su github attraverso cosa o attraverso le credenziali username e password però dice che github sta abbandonando questa modalità da novembre 2020 quindi probabilmente già morta e abbandonata ma via token ok se l'avete mai generato un token per il vostro account di github potete seguire il step qua sotto per creare un token e inserirlo qua dentro io l'ho già generato un po' di volte quindi dovrei averlo salvato comodamente nei miei appunti ctrl c ok adesso rinascondiamo i miei appunti e via ecco il mio bel token salvo ok e chiudio oppure se vi è in close è uguale ora a questo punto se faccio fetch data fa la stessa cosa e ci sono le 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 pull request qua ora poi andiamo un po' a filtrarle cerchiamo qualcosa che sia non rtc ok rtc sta per ready to comment vuol dire che ha già ricevuto i test necessari per far passare questa modifica ok dentro il branch di joomla e siccome abbiamo passato le robe in questo modo qua non voglio che sia npm npm si tratta di compilare i sorgenti che siano javascript o css per joomla è una roba un po' complessa per chi ha le prime armi e chi non lo conosce quindi consiglio di prendere quelli not mpm ok il target branch ovviamente 4.0 ok come abbiamo visto prima eccolo qua sul not article title bh1 ok quel che diceva lui ok ridiamoci l'articolo che è questo scusate è che attualmente gli articoli hanno un title in h2 è vero oppure no prima cosa è testare lo stato attuale quindi andiamo sul nostro bel sito e oh articoli non abbiamo cavoli che facciamo allora il consiglio è di chiudere qua che non ci serve tornare qua e andare in dashboard ok e installare i sample data nel nostro caso quelli in multilingua abbiamo fatto il sito multilingua perché non usarli vogliamo installarli? sì sappiamo cosa stiamo facendo parte e in pochi step installa i file di lingua ora il nostro sito ok che fino a un secondo fa era così scarno se lo ricarichiamo sarà pieno di articoli ok in diverse lingue se abbiamo ben capito quello che fa questa pull request abbiamo la home ok che è un h1 ok e questo esatto che è in h2 esattamente eccolo qui in più se andiamo sulla home ok è così proviamo a vedere un'altra cosa per fare una prova aggiuntiva menu me menu facciamo nuove voci di menu per vedere se va tutto se è tutto come un po' ci aspetteremmo agli articoli singola articoli ok selezioniamo un articolo in inglese ok perfetto titolo test save and close questo appare qua di lato teoricamente quindi qua sotto mi aspetterei e no perché giustamente io l'ho messo nel main menu non in quello inglese allora cosa faccio prendo e le posso spostare come election patch per esempio lo spostiamo ok tutto in quelli in inglese process da qui sparisce e sotto menu inglesi eccoceli qua test questo è nascosto quindi non dovrebbe vedersi se ricarichiamo eccolo qua test vediamo un po' cosa succede c'è un articolo analizza elemento questo elemento è in H2 ok bene abbiamo visto che su questa pagina questo è un H2 mentre nella home abbiamo un H1 home e H2 article bene facciamo una bella cosa ora questa patch qui ok guardate che bella cosa questo qua magari lo segnaliamo poi prossimamente che c'è un bug che sono spariti e queste due cose non si leggono più apply patch in pochi secondi ok la patch viene applicata ricarichiamo la pagina ok che è successo vediamo un po' mezzo elemento questo è in H1 questo qua sotto è in H2 quindi non è cambiato nulla se vado sotto test andiamo a fare un test qui ok questo ora è in H1 quindi ha fatto quello che ci aspettavamo ovvero quando un articolo è da solo il titolo della pagina il titolo dell'articolo diventa H1 quindi funziona tutto d'accordo? sì sì d'accordo sì sì visto d'accordo allora visto che sono andati un po' di sì passiamo a segnalare il test come con successo possiamo ora si vede un po' di più possiamo vedere su GitHub la issue ok questo è comodo lo premo da qui per leggersi in caso la discussione sottostante ok e poi posso vedere la issue su issue tracker che è lo strumento che utilizzeremo per segnalare il test con successo questo è l'issue tracker ok anche qua si può far login con il nostro bell'account GitHub facile facile perfetto l'ha fatto e l'abbiamo testata sì qua ho il test con successo ok quindi the title of the article became like one when it is a menu item tonto it correctly is h2 on category page or home ok correttamente diventa h1 quando è una voce di menu mentre rimane un h2 quando è in una categoria o nella home subito test result ok test success success ora una persona l'ha testata eccolo qui ok se ricarichiamo la pagina in realtà si carica anche il nostro testo che abbiamo scritto ok vediamo cosa cosa succede ok di qua la stessa cosa è apparso il mio commento come vedete prima qua è tutto verde avete fatto caso che c'è tutto verde qui ora è apparso un human test result è in pending perché ce n'è uno di successo zero falliti al secondo di successo questa roba tornerà a essere verde e qualcuno potrà segnalare questa issue come rtc result commit quindi potrà essere questa issue inserita dentro il core di joomla ok a questo punto io posso tranquillamente tornare qua e fare un revert della mia patch che ho installato facendo revert ok torno indietro dove è finito qua abbiamo visto prima che era un h1 giusto io ricarico la pagina vediamo se è così furbo da tenermi il punto assolutamente no ora questo elemento è tornato ad essere un h2 quindi è tornata la situazione di joomla come quando l'avevo installato vogliamo testare un'altra vediamo un po' tutto random image add image class ok language changes ok e va bene questa qui la guardiamo un po' su gita vediamo cosa dice è di Christine ok come persona Cristiano scusate come persona che l'ha sviluppata ti dice ok cosa viene fatto rimuove la larghezza e l'altezza dalle immagini ok e aggiunge una classe per attribuire all'immagine uno stile ok before applying the pull request si si carattiva issue per cui è stata aperta vedete che c'è l'immagine dentro senza nessuno stile ok dopo invece possiamo applicare uno stile qual è la fatta ok i due test passati con successo Brian ha dato qualche problema di test test successo test con successo ok rtc poi è tornata e quindi è stata messa come rtc come prima dicevo ok grazie per i testing ok qua ne parlano ancora va avanti il discorso va dentro nel rtc di nuovo e viene rimandata di nuovo da testare come da modificare ok vediamo un po' com'è in realtà i test che faremo non saranno utili perché sappiamo già che non sono stati fatti gli aggiornamenti dopo questa modifica ok prima ho sentito la persona in questione quindi di christian e mi ha detto provatela comunque perché è facile da vedere quindi la vediamo un attimo com'è per capire come sono un po' i test che si possono fare lei probabilmente nei prossimi giorni farà in realtà le modifiche che sono necessarie quindi potremo testare veramente com'è perché con joomla 4 sono con joomla 5 scusate ciao con joomla 4 integrato booster 5 che cambiano un po' le carte in tavola ma non di molto ok quindi andiamo prima cosa a capire come possiamo testarla lei parla di random image se non ricordo male giusto random image modulo perfetto allora prima cosa che facciamo è per non perdercela dov'è che questo qua che è l'id della pull request lo cerchiamo così siamo sicuri che rimane in memoria come solo lui questo è comodo perché magari qualcuno ti dice mi fai una prova sulla issue 32 075 tu te la cerchi e la trovi solo lei nei content ok abbiamo i moduli set modules aggiungiamo un modulo random ecco random image select ok dove lo posizionavo intanto abbiamo un nome random image posizione possiamo vedere che ci sono tante posizioni noi cerchiamo una bella top top A che è comoda in alto image folder ok qua dovrebbe appigliarsi la root non ricordo male piglia le jpeg e ha una lunga la larga 600 prima a salvare non che succede ok ok il nostro bel sito è finito qua me lo porto vicino in home ma ovunque no images ah che bella cosa close content media apri una nuova scheda ah perché sono png giustamente sample data allora andiamo dentro qua cassiopea ok sample data cassiopea quindi random image ammetto che non so sono sicuro se fare cose nel modo giusto vediamo se così funziona no save eccole qui perfetto allora il percorso va dato come root ok slash tutto il percorso ovvero delle immagini fisico sul disco quindi come era visto qua tra l'altro images sample data sample data cassiopea yes lei ha caricato un'immagine che mi ragione sia questa qua il nasa 5400 se ricarico ne appare un'altra sono veramente piccoline perché analizza elemento width ok gli viene attribuita il valore dal dal modulo ok lei dice perfetto se applicate la patch dovrebbe cambiare questa visualizzazione qua facciamo un bel close andiamo nel patch tester quindi component per tester l'applichiamo content torniamo sempre sui nostri moduli random image ha tutta un'altra faccia non c'è più l'altezza ma c'è la classe va bene andiamo a vedere cosa succede qua dentro adesso magari è meglio beccare una di quelle che c'erano prima eccola qui che fortuna che abbiamo avuto è grossa tutto analizza elemento ok non ha più nessuno attributo di quelle di prima ha una classe image fluid ok bene vediamo un po' le classi delle immagini di bootstrap quindi bootstrap ok eccolo qui la versione 5 è questa la docs ce la chiamo image image fluid è quello che c'è già adesso ma noi vogliamo farla per esempio tubenail ok tubenail se ci avete fatto caso non so se si può vedere bene eccola qua è come le vecchie polaroid con il bordino bianco intorno ok è un effetto molto usato e può essere molto comodo per fare una prova e noi ce l'applichiamo senza perleggere e scrivere save cos'è fatto ricarichiamo la pagina guarda qua è apparso un bordino ok funziona vogliamo sbiterci ancora un po' di più per fare le prove dovrebbe esserci qualcosa tipo border radius se non ricordo male sulle immagini perfetto rounded circle la devo fare tonda in tutto ciò tipo a bollino save ricarichiamo cosa vuol dire di più della vita? come guardare nel telescopio perfetto funziona ok possiamo dirgli che abbiamo testata anche qua vediamo giusto per vederle close andiamo sotto component patch tester ok sempre sull'issue tracker test this ok possiamo dirgli che abbiamo fatto il test di successo ok oppure che non l'abbiamo testata in effetti lei non l'ha ancora aggiornata ricordate che c'era scritto che doveva essere aggiornata ok quindi scrivo we have tested it before the new cosa che c'era scritto scusate non mi son ricordo in fondo in fondo devo vedere un'altra parte sempre da qui possiamo andare su github ok comodo questo qua che è in alto per andare ad andare in github è molto comodo ok the new updates ok i updates erano chiamati e funziona perfettamente deforma anche una e ok ho testato la cosa prima dei nuovi aggiornamenti e funzionava correttamente with nightly del 17 di febbraio ok questa ora entra dentro se ricarichiamo la pagina i test di successo sono rimasti tre ok il nostro in realtà appare come un commento ok non è un test con successo questo è comodo perché magari qualcuno deve chiedere qualcosa allo sviluppatore potete fare la cosa sia da di tab direttamente ma anche da qua basta dire che state facendo un test senza test ok e scrivere il vostro commento oppure andare in fondo alla pagina e scrivere qua dentro un commento sempre alla pull request test testare non è complesso come avete visto è molto facile ok diventa più complesso quando qua torniamo indietro revert ok quelle che hanno le npm resource sono più complesse da testare questa parte qua magari la vediamo insieme questo sabato su come provarne una di queste qui perché richiedono di o compiare il codice da zero o per esempio guardiamoci un attimo come funziona su github ok installarsi direttamente il pacchetto che viene generato ok da github sotto download ok details ci manda alla prebuild dal load package direttamente già per la pull request in questione quindi si può scaricare in questo caso il pacchetto installazione con già la patch inclusa che può essere molto comodo per provarla ci sono domande sono a disposizione se no vi aspetto tutti sabato per giocare con noi con Joomla 4 e impratichersi un po' e contribuire al suo rilascio che speriamo avvenga il prima possibile grazie a tutti grazie a tutti